Quindi voi non riaprirete il punto di primo intervento, è una doccia gelata per tutto il comprensorio del Tiguglio e non solo per il Comune di Rapallo. Nell'ambito del piano di riorganizzazione... Come certamente il consigliere Tosi saprà, il presidio ospedaliero di Rapallo è già stato rafforzato in termini di elezione medica con una collaborazione... Grazie Assessore per la non risposta, perché io ho chiesto quando verrà riabilitato il punto di primo intervento che ormai è chiuso da due anni. Assessore Totti, lei sta difendendo l'indifendibile perché tenere in tre hub aperti nell'ASL4 con 100, 120, 132 somministrazioni giornaliere per quanto mi riguarda è inaccettabile. I numeri della piena campagna vaccinale si aggiravano sui 500 al giorno, quelli sì che erano numeri e motivavano l'apertura di tre hub vaccinali in ASL4, oggi non è così. Cosa comporta questo da due anni? Comporta che tutti i codici bianchi, tutti i codici verdi confluiscono sull'ospedale di Lavagna, sul pronto soccorso dell'ASL4, dove gli operatori sanitari non ce la fanno più. Quindi voi non riaprirete il punto di primo intervento, è una doccia gelata per tutto il comprensorio del Tiguglio e non solo per il comune di Rapallo.